Occhio alla chiesa. Occhio a sto pub qui, non so come chiamarlo. Dall'altra parte a sto dove eravamo prima noi. What? Mi son passati di fianco alle orecchie. Eccolo qua! E' sul tetto, sul tetto di questo edificio qui. Ah, sul tetto! Sono tutte e due sul tetto. Porco dio. Ed è messo, se ne prenderli. Sto parlando quello dall'altra parte a sto. Mi ha preso. Sto arrivando, sto arrivando. Porca puttana, non esce! Con il suo M16 di merda. Dov'è? Dov'è? Sto guardando il diner. Sto guardando il diner. Sto guardando il diner, io. Mi ha vinto tutti quanti. Ho cercato due volte. Dietro il diner, a sinistra. Ho cercato due volte. C'è un tizio che è da la nostra destra. Ah, scusa, la nostra sinistra, al nostro ovest. Ci dovrebbe essere un'altra casa. Sì, sì, sto guardando lì. Sto guardando lì. Cioè, non ho visto lui però... È sempre lì, minchia. Non sei mai mosso da lì? Ma che palle! Uno. Ok, quello lì è sempre dietro il diner. Ma dai, knockout! Dove, dove? Porca puttana. È alla casetta bianca esattamente tra i 40. Davanti... Da te sul lato sinistro. In che punto è la casetta bianca? Era sul lato sinistro che non mi ha sparato. Era sul lato sinistro fuori. Ok. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sono dietro il diner. Lo vedo, lo vedo. Eccolo, lo vedo. L'ho colpito anch'io. Ok, dai. Ragazzi, sono un porca trae. Dovrebbero essere gli sgoccioli questi. Stai all'occhio giù, stai all'occhio giù, stai all'occhio giù, stai all'occhio giù, stai all'occhio giù. Sono al lato sinistro del diner. Tramette, tramette, Fede. Fatti, fatti, fatti. Via Lutaren e poi andiamo via. Se c'è anche solo un bandaggio lo piglio volentieri. Bella, raga. Tutti morti? Sì, sì. 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 Ma che... Che... Cazzo... Ma che c'è il mio van? Sono per me questi? Eh, penso di sì. C'è il tipo che tu hai ignorato. Mamma Fede, finiscilo. FINISH HIM! Sì. Da quella porta, da quella porta lì. Adesso è uscito. Chiudo a sinistra. Vai. Nooo. Sei un vero uomo. Sei un vero uomo, hai fatto bene. Nooo. Buonanotte cari. Buonanotte. Ciao ciao. No, il metto è livello 3 e l'armatura è livello 3. Sto ho 20 HP.